Ciao a tutti ragazzi da Defensa, devo farlo veloce perchè questo è una mob, molto veloce, 93 secondi, devo parlare tutto veloce, tu devi parlare, ma devi farti anche capire però, eh, ma devo fare veloce, comunque c'è anche Tibo, che sono io, l'indegante, il orecchione, Così, così, momento di silenzio, tu sai che non arriverai a fine di questa serata, perché da mille punti, perché? Allora, perché dovrebbe essere non essere craccato, esatto, CHEATER DI MERDA! Non si può dire, craccato! No ragazzi allora, sfatiamo un tabù, ok? Non è che ti arrivano mille punti perché usi i trucchi, no? No, non è che se tu vai nel server craccati sei un cheater, vai nel server craccati per giocare meglio, vai nel server craccati perché... Però l'Akidison fa le cose col culo ultimamente! Esatto, perché purtroppo i giocatori che giocano specialmente quelli su PC, dicono, no scusa perché devo giocare con il sistema de lost e uno fa lost e gli altri si possono... Magari hanno una chiavetta di merda che va con il ping a 150... Praticamente se voi cercate un po' su Google, io non potrei neanche dirlo, comunque teoricamente se... Adesso ci segnalano il video, adesso ci segnalano il video, ci chiedono il canale! Voi teoricamente potete giocare a Modern Warfare 3 senza comprarlo... Molto meglio, tra l'altro! E giocare molto meglio perché giocate nei server dedicati, cosa che né nella console, e né nel computer, l'Akidison ha deciso di fare! E cose che promettono ogni anno e che non mettono mai! Allora gli hacker dicono, cazzo li faccio io! Esatto, che li faccio meglio di l'Akidison! Noi non vogliamo giustificare gli hacker! Noi non vogliamo giustificare quelli che craccano i giochi! Quindi da mille punti a uccisione! E anche così, anche Natale ovviamente, quindi premio di più! In ogni caso, questo giocatore qui usava un P90 col silenziatore e il mirino laser! Sclera su DOM, spacca tutto e chiama la MOBI in 93 secondi! Cioè neanche il tempo di finire di dire che cosa cazzo usava! Ciao a tutti e al prossimo video! Ciao!